Sono tre i corsi attivati per il 2019 dall'ITS Meccanica di Lanciano. Confermati i corsi in collaborazione con Sevel Academy di Atese e con le aziende del Polo Innovazione Automotive, il terzo si svolge con la collaborazione della Adecco Italia. Un nuovo progetto è stato detto nella sede del Consiglio regionale a Pescara che consentirà ai 26 allievi non solo di svolgere l'apprendistato di terzo livello in alta formazione, ma anche di ottenere un contratto di lavoro già durante la fase formativa. È la prima esperienza del genere in Italia, commenta per Adecco Raffaella Febbo. Il corso costituisce un canale privilegiato riservato agli studenti dell'ITS Meccanica per l'ingresso nel mondo del lavoro. Terminati questi due anni di corso, i ragazzi avranno poi la possibilità di continuare questo percorso intrapreso con la forma dell'apprendistato professionalizzante e ci auguriamo che si possa dare ulteriore continuità e quindi veramente contribuire alla loro employability sul territorio di residenza. I corsi biennali seguono lo schema del sistema duale di alternanza tra lezioni in aula e formazione on the job. In accordo con le esigenze delle aziende, i corsi sono dedicati allo sviluppo di competenze in linea con le tecnologie abilitanti di Industria 4.0, le competenze più richieste oggi dal mondo del lavoro. Il direttore dell'ITS Meccanica Antonio Maffei. In pratica attualmente in formazione noi abbiamo circa 130 giovani tecnici che saranno pronti e formati per il sistema produttivo abruzzese. Tra l'altro la collaborazione tra l'ITS e le aziende si sta allargando non solo a tutto il settore automotive che è quello più fisiologicamente vicino ai nostri corsi, ma anche ad altri settori come settori della cura della persona piuttosto che l'agroalimentare. In Abruzzo sono cinque gli ITS attivati, una opportunità di formazione superiore per i ragazzi di rimanere nel proprio territorio ed una opportunità di crescita per lo stesso territorio, sottolinea la dirigente scolastica Patrizia Costantini dell'Industriale Da Vinci di Lanciano, scuola capofila dell'ITS Meccanica. E quindi questa è una risorsa per il nostro territorio e perché si prepara una manadopera altamente specializzata dando immediatamente il placement, cioè questi ragazzi vengono immediatamente presi in carico e retribuiti e dall'altra parte è un territorio che cresce, un territorio che continua a coltivare anche tra le altre, ha una spiccata vocazione industriale, quindi mettere in grado la nostra industria locale e nazionale di competere con il resto del mondo vuol dire anche salvaguardare le potenzialità di sviluppo, di crescita economiche ma anche culturali del nostro territorio.